I dati raccolti dai satelliti della NASA e dal sistema europeo Copernicus sono sempre più allarmanti. Le emissioni inquinanti di gas serra stanno velocizzando lo scioglimento dei ghiacciai ai poli con un ritmo che supera le peggiori previsioni degli scienziati. Iceberg grandi come intere nazioni scompaiono di mese in mese, l'innalzamento dei mari è già fuori controllo. Secondo le ultime stime della NASA, nei prossimi 30 anni il Mediterraneo salirà di quasi mezzo metro e le città costiere italiane rischiano di scomparire. È questo il tema del convegno Il respiro della vita e il respiro del mare che si è tenuto presso la Facoltà di Ingegneria di Roma 3. Possiamo dire che proprio dallo spazio in qualche modo viene un grido d'allarme per lo Stato della Terra? Sicuramente questo grido d'allarme viene da tanto tempo. C'è un'iniziativa che è partita a livello europeo a fine degli anni 90, all'epoca si chiamava GMS e che oggi si chiama Copernicus. E proprio sui ghiacciai lo scioglimento anche dal polo sud di un enorme pezzamento di iceberg è stato documentato proprio da Copernicus, è così? Certo, perché questo è dovuto proprio all'aumento dell'effetto serra ed è il grido d'allarme che gli scienziati stanno dando. Sicuramente l'aumento di temperatura porta al disgelo degli acciai, ma questo è un grosso problema perché significa aumento del livello del mare, significa erosione delle coste. Quindi è una problematica globale. Quali sono le emergenze che ci troviamo ad affrontare dal punto di vista ambientale? Le emergenze sono moltissime. Oggi, in questa giornata, ne celebriamo una più delle altre, forse, che è quella della relazione tra l'uomo e il mare. Il mare è un ambiente particolarmente fragile, vulnerabile, delicato e quindi soggetto all'impatto delle azioni antropiche. La nostra capacità deve essere quella di mettere insieme scienziati, ricercatori e professionisti in modo tale da costruire un equilibrio, che sia un equilibrio che tiene insieme, da una parte, la tutela della fragilità, dall'altra anche la compatibilità con l'aggressione marittima. Quali sono, Assessora, le priorità che il Campidoglio dovrebbe affrontare in questo senso? Noi abbiamo da subito iniziato un grande programma e grandi progetti. Il primo riguarda la riforestazione urbana. Stiamo lavorando moltissimo su questo. E poi sul fiume. Stiamo facendo una progettazione proprio per il Tevere, perché è stata tutta un'area dove la natura ha ripreso la sua vita. E c'è un ecosistema incredibile che va lasciato così, non va toccato, però va curato e protetto.